Per te cosa significa donare sangue ed essere d'aiuto per la comunità in cui vivi? Per me è un gesto molto importante donare perché è un atto di solidarietà che comunque è voluto ad aiutare le persone meno fortunate e che appunto hanno bisogno di aiuto. Doni il sangue perché? Perché secondo me è un gesto molto importante da fare, salvare comunque delle vite e non è la prima volta che dono, questa è la terza e comunque penso che le persone non debbano avere paura di questa cosa anche perché uno deve pensare al gesto, non cosa magari prova, ci sta magari un po' di ansia però poi posso. Giovani donatori di sangue a Molfetta con l'iniziativa dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Salvemini che si rinnova anche quest'anno grazie alla stretta collaborazione con l'Avis di Molfetta. Davanti alla scuola è tornata l'autoemoteca per raccogliere le donazioni di sangue degli studenti, un modo concreto per essere vicino a chi ha bisogno. La risposta dei ragazzi e delle ragazze dell'istituto è stata notevole e ricca di entusiasmo, l'occasione per riaffermare il valore del dono. Io credo molto nel dono e penso che la donazione sia proprio uno dei doni fondamentali ai quali dobbiamo assolutamente spingere i nostri giovani a fare. C'è stata una corsa alla donazione e non solo qui, alcuni ragazzi stanno donando qui stamattina, altri invece perché ovviamente c'era un numero massimo di donazioni, lo faranno presso l'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta. Tra gli studenti c'è chi ha donato anche il plasma. Voi oggi donerete il plasma, perché questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché sono già due volte che doniamo sangue, ma il plasma è più ricercato e quindi abbiamo deciso di fare quello anche se è un procedimento più lungo, sempre per aiutare ragazzi e persone che ne hanno bisogno. È un'esperienza molto piacevole comunque da fare e comunque da condividere con i nostri compagni ed è bello. L'attività dell'Avis di Molfetta nelle scuole cittadine ha portato risultati importanti in termini di donazioni, così si potrà far fronte anche all'emergenza che ogni anno si presenta in occasione dell'estate, quando i donatori calano drasticamente. Noi siamo veramente contenti perché l'autoemoteca avviene soltanto alla fine di un percorso promosso da Avis Molfetta, che è quello di l'Avis Scuola Tour. Noi visitiamo tutti gli anni gli istituti tecnici superiori della nostra città, dove annoveriamo veramente tantissimi ragazzi che sono pronti ad aiutare il prossimo. Nel 2024, considerando i giovani di tutte le scuole, quindi degli istituti superiori di Molfetta, siamo intorno alle 200 unità, quindi 200 nuovi donatori che ci aiuteranno soprattutto per quanto riguarda la prossima emergenza che purtroppo ogni anno si presenta puntualmente d'estate. Doni il sangue perché? Perché? Allora io principalmente molto perché penso agli incidenti che stanno capitando ultimamente stradali e quindi so che il mio sangue o di qualsiasi altra persona potrebbe servire comunque per salvare delle vite, io penso principalmente a quello.